Se tutto può finire prima, se gli altri fanno medicina, è il senso della comunicazione, è il senso della comunicazione. Ma devi crederci davvero, per liberarti di questioni, legate troppo spesso al dire, al buon senso comune, al fare, che tutti vogliono da te, che fanno le domande, sì, di 40 anni fa. Ma non ti accorgi, che è tutto sbriciola. Ma non ti accorgi, che è tutto sbriciola. Che cos'altro c'hai? Da presentare con lo squallido lavoro Da presentare con lo squallido lavoro Da presentare con lo squallido lavoro Io me ne andrò Io me ne andrò Io me ne andrò Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni Vieni con me Vieni con me